Musica Senza altro indugio vi chiederei di alzarci tutti quanti in piedi di volgerci insieme alla parola di Dio potrei condividere con voi quanto il Signore ancora ha messo nel mio cuore nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 11 e dal versetto 23 Alleluia Ebrei 11 dal versetto 23 Signore parla al nostro cuore, gloria a Dio Alleluia Per fede Mosè quando nacque fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re Per fede Mosè, fattosi grande rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile Per fede celebrò la Pasqua e fece la spersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti In cui la parola di Dio Accomodatevi pure Gloria al Signore Tutto il capitolo mette in risalto la fede, il carattere glorioso della fede Abbiamo tanti esempi, tante illustrazioni e vediamo chiaramente la differenza che c'è tra la fede che piace a Dio quella che glorifica il Signore e tutte le forme, come possiamo dire, posticce di fede tutto ciò che può somigliare alla fede ma in realtà fede non è ed è una distinzione molto importante perché il capitolo ci fa ben comprendere che tra la fede vera e la fede apparente c'è la differenza che passa tra la vita e la morte La fede non va per tentativi La fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di realtà che non si vedono Qui abbiamo, dinanzi a questo episodio così importante così noto, gli egiziani che rincorrono appunto gli ebrei e che tentano di fare la stessa cosa che loro fecero, aprendo il Mar Rosso e camminando come su terra asciutta Chiaramente questo tentativo non è una forma umile disincantata solo di imitare qualche gesto ma come era nelle loro risorse nel loro ricorrere all'occultismo appunto fecero appello alla magia questo era il modo di procedere degli egiziani sin dall'inizio quando Mosè con Aronne vennero mandati dal Faraone per far vedere la potenza, la gloria del Signore che liberava il suo popolo insomma Faraone schioccò le dita chiamò i suoi maghi dinanzi al bastone di Aronne che divenne un serpente anche il bastone degli egiziani divenne un serpente però è scritto nella parola di Dio che il bastone, pensate di Aronne inghiottì il bastone di Faraone così come qui noi leggiamo che tentarono di fare la stessa cosa ma furono inghiottiti in realtà avevano sfidato Dio avevano sfidato il Signore tanti oggi purtroppo esercono una forma di fiducia insana che alla fine diventa uno sfidare il Signore si va per tentativi si va per esclusione alcuni lanciano a Dio degli ultimatum Signore se Tu non operi entro le nove di sera io mi volgerò altrove se Tu non fai così io ricorrerò a un'altra strategia al piano B Signore fammi vedere se veramente mi ami fammi vedere se veramente esisti se sei potente tante volte si sfida il Signore forse tu lo stai facendo in una qualche maniera forse andando per esclusione appoggiandoti ora a questo e poi ricorrendo a quell'altro rischi di cadere perfino nelle maglie nelle reti dell'occultismo della stregoneria della magia è quella che sembrava una strada spianata da poter percorrere opportunità date da chissà quale potenza superiore poi si rivela invece un abisso di maledizione dove si sprofonda e non si sa più dove a chi a cosa aggrapparsi ecco perché stasera è il Signore stesso con amore che ti chiama a Lui alla fede in Cristo Gesù a dire tu non devi sfidarmi tu non devi sfidare la fede del popolo del Signore tu devi avere la stessa fiducia di coloro che si basano sul sacrificio e sull'opera perfetta di Cristo forse a volte noi facciamo i nostri tentativi proprio perché vogliamo a girare certe responsabilità nei confronti del Signore vorremmo che la fede fosse un qualche cosa in cui Dio è pronto a fare tutto quello che vogliamo ma cercando il meno possibile di riconoscere l'autorità del Signore ma fratelli, sorelle, amici ricordiamo a tutti quanti noi che noi abbiamo pace, abbiamo gioia non tanto per quello che Dio ci dona ma per la sua presenza nella nostra vita non sono tanto i doni di Dio che ci danno gioia e benessere nel cuore ma è il donatore colui che viene a dimorare nel mio e nel tuo cuore ecco perché ci deve essere questa fiducia che ci fa aprire, ci fa allargare il cuore al Signore la fede di questi ebrei dovette esercitarsi in quel momento al Mar Rosso dinanzi a una situazione veramente particolare a una situazione veramente pericolosa ma ci dice la parola di Dio che la loro fede in realtà iniziò già prima iniziò già nella loro casa in Egitto quando dovettero mettere tutta la fiducia nel cuore nella promessa del Signore quando Dio disse guardate mettete il sangue dell'agnello sulle vostre porte quando passerà lo sterminatore allora lui non entrerà nelle case io passerò oltre dice il Signore a questi ebrei quindi dovettero mettere la loro fiducia che quello che Dio diceva era vero che sarebbero scampati non soltanto dall'oppressione materiale della schiavitù degli egiziani ma sarebbero stati scampati dal giusto giudizio di Dio dalla santa ira del Signore avrebbero avuto una salvezza spirituale in quel momento ogni ebreo dovette mettere fede in quel sacrificio in quell'opera e in quella promessa la fede non è qualcosa che si può imitare è qualcosa che ognuno di noi deve vivere deve realizzare vedete è scritto che per fede per fede per fede per fede celebrò la Pasqua ma per fede plurale attraversarono il Mar Rosso come su terra asciutta doveva essere cioè la fede di ognuno di loro che in quel momento veniva manifestata ma era stata già basata prima sul sacrificio tu stasera non devi fare le stesse cose che fanno i credenti devi credere nello stesso Dio e nello stesso sacrificio Gesù dice abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio è colui che tu hai mandato e noi vogliamo credere in Cristo Gesù in quel perfetto sacrificio quando hai creduto nel Signore quando sei andato alla croce poi nel momento della difficoltà quando ti trovi dinanzi a un abisso di pericolo quando non sai come uscirne fuori allora manifesterai quella fede che già c'è non dovrai imitare la fede degli altri ma avrai la tua fede personale vera viva vittoriosa qui si parla della fede dei genitori di Mosè e poi della fede di Mosè e in tutto questo capitolo si parla di una fede che non si tramanda di padre in figlio ma si vive di padre in figlio c'è la fede di Abramo che deve sacrificare Isacco ma c'è la fede di Isacco e poi c'è la fede di Giacobbe e c'è la fede di Giuseppe e c'è la fede di Abele che guarda Caino che offre quel sacrificio ma il primo a offrire il sacrificio fu Caino ci dice il libro della Genesi eppure Abele non disse fammi vedere se offre un po' di verdura un po' di ortaggi fammi vedere che mosse fa che gesti lo voglio imitare alla perfezione no no lui offrì dei frutti della terra ma il cuore di Abele fu toccato comprese che davanti a Dio meritava la morte aveva bisogno della liberazione di una redenzione spirituale e offrì la vita di un animale al suo posto come per dire signore perdonami io merito la morte ma tu sei colui che dà la vita non imitare la fede degli altri vivi la tua fede stasera cammina con le tue gambe vediamo lui come è stato battezzato nell'ospito santo allora era seduto nella seconda sede della terza fila si è mosso così ha detto no 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 non imitare la fede degli altri il signore stasera vuole benedire la tua fede piccola come la mia incompleta come la mia tante volte inefficace come la nostra ma fondata sul sacrificio di Cristo Gesù c'è differenza tra quello slancio emotivo religioso che rincorre Dio nei problemi senza mai poi voler seguire le sue vie la sua volontà e la fede che invece è basata sulla croce la fede vera la fede viva non aggira la croce la fede riceve innanzitutto il perdono dei peccati ecco perché questo capitolo la parola del signore ci mette dinanzi a questa fede nell'aspersione ci fa comprendere che questa è la fede che fa la differenza la differenza tra la vita eterna e la morte eterna non si tratta di scampare alle acque del Nilo come per Mosè come alle acque del Marosso si tratta di scampare dall'abisso della morte eterna allora questa fede personale è una fede interiore allora inizia dal ravvedimento è già da un po' che il signore tocca sensibilizza la tua anima forse è una giovane vita ti sta facendo vedere sì che egli ti ha amato ti ha portato avanti in tanti anni ti ha aiutato in tanti bisogni in tante situazioni difficili ma adesso ti sta chiamando ti sta mettendo in crisi ad andare alla croce in questo momento per te la fede cristiana forse non è il massimo della gioia più che altro è crisi oh mi ricordo delle tue lacrime Timotio sì la nonna era credente tua mamma pregava il signore ma io mi ricordo di quel pianto di quella tua liberazione quando tu ti sei ravveduto hai incontrato Cristo il salvatore il tuo personale salvatore non è il salvatore di qualcuno della tua famiglia deve essere il tuo salvatore forse magari tu hai cercato di imitare qualche gesto qualche rito perfino qualche formula qualche modo di fare ma non è successo niente volevi avere la stessa fede degli altri volevi in qualche maniera imitarla ricopiarla ma ti trovi ancora nel tuo mar rosso anche in tempesta sprofondando nei tuoi problemi magari senti delle belle testimonianze di chi è stato liberato dalla droga dall'alcol da un tumore da qualunque altra cosa ma sembra che invece per te la risposta non arriva ti senti escluso gli altri passano su quella terra asciutta e tu invece sprofondi perché? perché il Signore ti sta aspettando alla croce vuole che con i tuoi sentimenti col tuo ravvedimento con le tue parole forse anche poche tu gli confessi il tuo peccato e te ne andrai a casa stasera alleggerito ripulito ripulita benedetta gustando la presenza di Dio come mai è avvenuto prima una fede viva una fede interiore altrimenti andrai avanti forse per un po' a volte si può trovare la strada un po' spianata dalla fede degli altri da qualche opera straordinaria ma una fede del genere ha i passi contati la carne può camminare nelle vie di Dio fino a un certo punto ma prima o poi arriva al capolinea prima o poi deve fermarsi nelle vie di Dio possono camminare solo i redenti solo i salvati per grazia prima o poi ci sarà qualcosa che ti farà sprofondare non basta accodarsi agli altri non basta neanche beneficiare della fede degli altri per quanto certe esperienze siano vere siano genuine tu non sei uno di quelli che sta sfidando Dio in maniera dispettosa irriverente ma sei uno una di quelle che fino adesso si è accontentato di vivere di riflesso degli altri di godere i benefici della fede che altri hanno esercitato se non sarà la mamma o il papà dei parenti degli amici questo può essere anche buono ma il punto è un altro ci vuole la tua e la mia fede personale nel Signore per poter godere al fondo l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce c'è un tempo nel quale ci accorgiamo che la fede vera la fede viva ci porta a camminare nelle vie del Signore e ci porta non a riprenderci le cose della vecchia vita ma ci porta a riprenderci le cose di cui il peccato ci aveva privato innanzitutto la gloria del Signore a poco a poco non lo confessare a me confessalo a Dio ma a poco a poco ti stai andando a riprendere tutte le cose della vecchia vita capita a tutti e finché noi non mettiamo un paletto non diciamo adesso basta adesso deve iniziare un processo inverso si va avanti e si sprofonda e si cade nelle sabbie mobili solo il Signore ci può tirare fuori da là qual è la differenza qui tra gli ebrei e gli egiziani gli ebrei sono lì credendo nel Signore si stanno lasciando alle spalle la vecchia vita la schiavitù stanno andando verso l'eredità promessa dal Signore gli egiziani sono invece lì a rincorrerli per riprendersi la vecchia vita il loro vecchio potere il prestigio o la possibilità di edificare i loro templi delle case ancora più grandi di sfruttare quegli ebrei stasera è questa la differenza vuoi esercitare la tua fede vuoi camminare su quelle vie per andarti a riprendere quello che ti è stato tolto o perché vuoi lasciare ogni cosa e vuoi che Dio ti possa donare ciò di cui il peccato ti aveva privato questa è la differenza quell'uomo si chiamava Simon Mago aveva avuto a che fare con la magia non so quanto fosse convertito ma si battezzò anche lui e quando vide che gli apostoli erano usati da Dio e credenti venivano battezzati nell'ospito santo ero pronto a pagare pur di avere questo potere prima che arrivassero loro a Samaria era l'uomo del momento era sulla bocca di tutti il suo ufficio era sempre pieno di gente che andava da lui e riusciva così a inventarsi qualche prodigio qualche falso miracolo qualcosa che potesse stupire le persone adesso sono arrivati gli apostoli gli hanno tolto la piazza ma appena vede un'opportunità di riprendersi la vecchia vita il vecchio potere il vecchio prestigio ecco di nuovo che torna fuori e vuole camminare in senso inverso nelle vie della fede ma il suo cuore è pieno di amarezza è pieno di invidia signore stasera purifica il nostro cuore non stiamo camminando in quelle vie per andarci a riprendere le cose della vecchia vita noi stiamo camminando verso la meta della gloria celeste la fede non ci fa rincorrere le cose che Dio disapprova la fede ci fa afferrare le cose che Dio ha donato le cose che Dio ha promesso è la differenza che passa tra una fede vera e una fede apparente quando gli apostoli rimproverarono Simon Mago la sua risposta ricorda proprio l'atteggiamento i sentimenti di Faraone Faraone disse a Mosè ad Aronne pregate voi per me il Signore e lo stesso disse Simon Mago pregate voi per me il Signore che non mi accada nulla di male dov'è la fede non te la puoi inventare sul momento nella difficoltà o ce l'hai o non ce l'hai se non ce l'hai stasera riparti dalla croce da Cristo Gesù per iniziare a camminare nel giusto modo in quelle vie la fede non ci fa subire il cammino degli altri gli egiziani si vedevano questi ebrei andarsene ecco la nostra manovalanza che se ne va ecco il nostro facile guadagno che va perso gli ebrei festeggiavano ma loro insomma vedevano sparire tutte le loro vecchie risorse e magari in mezzo a noi c'è qualcuno che sente di avere forse questo stranamente in comune con quegli egiziani come se sta subendo la fede altrui o il suo familiare sua moglie prima di convertirsi lo adorava come un idolo adesso lo rispetta ma innalza e glorifica il Signore i figli prima erano disposti a dire una bugia per coprirlo adesso vogliono vivere di verità di giustizia gli amici lo approvavano in quello che era inico adesso invece lo rimproverano adesso invece lo mettono in guardia ha perso quella stima ha perso quel prestigio forse è accaduto anche nella tua vita e vorresti andarti a riprendere i tuoi familiari vorresti andarti a riprendere quelle persone che senti che la fede in Cristo ti ha portato via ma tu non hai nulla da perdere se altri si convertono al Signore ti ameranno ancora di più nell'amore del Signore non te le devi andare a riprenderle per strapparli a Cristo ma devi camminare insieme a loro con la stessa fede nel Signore tentarono di fare la stessa cosa ma furono inghiottili perché erano egiziani no qui il versetto non esclude a priori una categoria una nazionalità di peccatori pensiamo per un attimo se questi egiziani di fronte a tutte le opere potenti gloriosi amorevoli del Signore avessero detto bene raggiungiamoli conosciamo il loro Dio adoriamo il loro stesso Signore Dio li avrebbe accolti e invece sono lì per andarseli a riprendere e sopraggiungono con 600 carri armati di tanta cattiveria e gli ebrei sono lì il Mar Rosso ancora non è aperto il terreno sta tremando arrivano questi carri con questi cavalieri minacciosi a volte la paura viene viene anche a noi è vero o no? come faremo Signore? gli ebrei sul momento dicevano ma forse sarebbe meglio tornare indietro morire ma morire da schiavi al tempo giusto ma non così forse è un momento nel quale sei impaurito forse è un momento nel quale vedi solo la difficoltà e il Mar Rosso è ancora chiuso e sei tentato di fare qualche passo indietro verso la vecchia vita con meno problemi con meno rischi no la fede vera ci fa vincere questi momenti di pericolo e ci fa andare avanti nel Signore ebbero grande paura ma il Signore disse e insomma perché gridate Mosè prendi il tuo bastone è lo stesso lo stesso dei prodigi lo stesso che aprirà il Mar Rosso questi egiziani non li vedrete più state calmi state fermi perché Dio stesso combatterà per voi questo ci chiede stasera il nostro Signore le cose che stai passando non servono a separare te da Dio ma servono a separarti da chi ti vuole portare indietro dalle vie del Signore Dio non costringe gli altri a seguirlo con noi nelle sue vie l'Evangelo si propone non si impone Dio non costringerà qualcuno a seguire Cristo con te però non gli permetterà di riportarti indietro dalla via della salvezza e della vita eterna allora stasera se devi gridare grida per andare avanti stasera non devi sfidare la fede non devi imitare la fede di qualcun altro non ti devi limitare a beneficiare della fede degli altri non devi pensare di subire la fede degli altri stasera puoi e devi avere una fede personale in Cristo Gesù una fede che ti permetterà di andare avanti una fede vera viva vittoriosa una fede fondata sulla croce la fede che fa la differenza tra la vita e la morte se questo è il tuo desiderio è il tuo bisogno adesso che andremo in preghiera lascia stare quello che penseranno gli altri quello che diranno gli altri anche poche parole ma digli Signore Gesù io sono qui perdona i miei peccati Signore Gesù io stavo ritornando indietro Signore aiutami ad andare avanti Signore io mi stavo riprendendo le cose della vecchia vita Signore fai che invece possa riprendere le cose di cui il peccato mi aveva privato che io possa rivedere ancora quel mare aperto davanti a me senza più sprofondare le vie di Dio non sono vie paludose sono vie dove camminano solo i redenti alziamoci in piedi cerchiamo la faccia del Signore gloria a Dio gloria a Gesù gloria a Dio a Dio a Dio a Dio Grazie.